I residenti del quartiere 7, Muraglia e Montegranaro non hanno usato giri di parole. Chiedono la rimozione immediata del ripetitore di 25 metri installato qualche giorno fa da Inwit in un'area privata di Telecom, in via Beccaria numero 3. Si tratta di un impianto provvisorio per la telefonia mobile, rimanendo attiva tra circa due settimane per 120 giorni. Un'antenna eretta nottetempo a pochi metri da case e asilo che ha destato malessere, confusione e tanti dubbi tra gli abitanti della zona, che ora chiedono a gran voce maggior trasparenza sulla vicenda. Si tratta di un impianto provvisorio, quindi non necessita dell'iter burocratico classico, autorizzazione permessa. Tuttavia hanno scelto un posto, seppure in via provvisora per i quattro mesi che prevede la legge, che è assolutamente infelice. È infelice innanzitutto perché c'è un asilo a 20 metri. Ci sono i bambini che giocano a pallone proprio di fronte a questa antenna, quindi dell'iterio dal punto di vista della salute. Poi c'è anche un discorso che è in mezzo alle case, quindi comunque abitando qui assorbiamo anche noi adulti queste onde elettromagnetiche. Poi c'è anche un discorso di impatto visivo, è proprio una cosa brutta, un obbrobrio a vederlo. E infine c'è anche un discorso economico, noi abbiamo fatto queste case con tanti sacrifici. Naturalmente con questa antenna questo deprezza il valore dei beni immobili. Sentendo i residenti tutti disconocevano quello che era successo, nel senso che non c'era stata una comunicazione preventiva, nel senso che addirittura non hanno apposto il cartello che è la comunicazione, la scia, il giorno prima di iniziare i lavori, almeno un giorno o due prima di iniziare i lavori, l'hanno fatta addirittura al termine dei lavori, dopo che avevano montato questa antenna. Ci siamo mossi subito e siamo andati nei vari enti a chiedere informazioni e tutto quanto e abbiamo fatto una petizione per una raccolta firme. Siamo riusciti a raccogliere tutto il vicinato che sono nettamente contrari all'installazione del ponte radio, del ponte telefonico, che poi non sappiamo se è un 5G, quale potenza emana il ponte. Prima come cittadino, poi effettivamente ho incontrato anche, ci siamo ritrovati quella mattina con gli altri residenti allarmati, perché sostanzialmente ci siamo visti in alzare un'antenna di 30 metri davanti alle nostre abitazioni. Da lì ho fatto immediatamente una richiesta chiedendo che venisse di accesso agli atti per capire sostanzialmente se fosse stata rilasciata una scia, una copia della concessione per pubblico servizio, le motivazioni per l'installazione, perché sostanzialmente qui vicino ci sono anche altre due antenne. Quindi ci siamo posti questa questione, nel senso che è necessario proprio installarla qui. C'è anche un rischio che al di là di quello che noi non possiamo ancora sapere, perché sostanzialmente dovranno esserci accertamenti dell'arco, ma è stata installata regola d'arte, c'è il problema che magari effettivamente la stessa possa poi crollare. A consentire all'Avvocato Galtieri l'accesso agli atti sul progetto in questione sarà l'ingegnere Di Mattia, che dovrà entro il 29 maggio dare una motivazione in caso di respinta di tale richiesta. Nel frattempo l'assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti ha dato pieno sostegno ai cittadini, chiedendo una collocazione più consona dell'antenna. Insieme ai presidenti di quartiere, giustamente, io ho dato la massima disponibilità anche con tutti gli uffici, inizieremo un percorso con un tavolo tecnico che coinvolgerà tutti quelli che solo lontanamente, come ho detto io, sentono parlare di antenne e quindi non solo l'ufficio ambiente, ricordo che sono sempre interessati anche l'ufficio patrimonio, l'ufficio lavori pubblici e il SUAP, perché ha queste comunicazioni che molte volte appunto sono mere comunicazioni, come dicevo. Quindi si farà questo tavolo che affronterà il problema dal punto di vista sia tecnico, informativo e sia dal punto di vista politico. Nonostante la provvisorietà del ripetitore e le procedure seguite dall'ente privato per installarlo, rimane comunque un forte dubbio tra i residenti. Passati questi 120 giorni, ammesso e non concesso che effettivamente non abbia nessun impatto di tipo ambientale, questa antenna verrà rimossa o resterà qui e quindi verrà utilizzata all'occorrenza nei periodi di maggiore traffico di telefonia. Quindi la paura è che da temporanea diventi appunto definitiva.